Ciao amici, benvenuti in un nuovo What I Do In A Date, una ragazza in sessione che va a cavallo domani a un esame tra l'altro. Mi sono svegliata, ho fatto colazione sempre sempre con il latte e con le goccele da 100 anni. Qua vi faccio vedere il mio outfit pigiama, stupendo. Mi sono vestita, mi sono messa i lenti perché sì, sono cieca e mi sono lavata i denti e tutto il resto. Questo è il mio outfit di oggi, tra l'altro alla fine non ho montato quindi bene, molto bene. Qui vi faccio vedere il mio calendario sia di ieri che di oggi, bellissimo, lo leggo sempre, il calendario è geniale. Qui salutavo bolla e andavo a prendere un po' di traffico giustamente perché è ottimo, stupendo. Qui ero quasi arrivata, guardate che bello, c'era il sole. Questa è il mio maneggio, Jumping Arcagnago, gestisco anche la pagina social quindi andateci a seguire su Instagram. Qui c'è Icca, l'ho salutata, qua con calma si girava con le sue orecchie e si è sbrigata al naso un po' di giorni fa ed è ancora così. L'ho passeggiata poi un po' a mano e qua le stavo provando a dare dei pezzetti di non so cosa che ha rubato una mia amica e sì, li ha mangiati. Poi le ho fatto la doccia alle gambe, bella, fredda, tutte e quattro le gambe, sia davanti che dietro. Fredda, freddissima perché sì, faceva caldo e quindi assolutamente. Poi vediamo un po', le ho messo la maschera e qua la stavo portando appunto fuori a paddock. Qui abbiamo un'ottima inquadratura, bravissima per Nilla e qua poi si spaventa perché c'è una strada di fianco e quindi boh. Poi mi sono accorto che non l'avevo tolto il nodo, l'ho tolto subito e l'ho tolto la capezza, così, perché gliela tolgo sempre a paddock e niente, ha fatto subito la stupida. E io, cosa fai? Qua non usava la sua amica bisbetica come lei e poi giustamente, giustamente, si è rusolata come una palla di lardo, guardatela. Eccola qua. E poi, niente, si tira su e continua ad essere spaventata dalla strada, poi ovviamente si accorge che può mangiare, quindi la smette. Qua ci sono anche tutti i suoi amici, guardate che belli col sole, tutti a paddock, stupendo, adoro troppo. Questa è la mia istruttrice, Marty, che sta facendo un percorsino un po' più alto perché è col suo cavallo nuovo, deve portarlo in gara e quindi, giustamente, ha fatto qualche salto un po' più alto. E' nuovissimo, cioè lo monta da domenica, l'ha portata a casa, sono tornata a casa, salutato bolla, che dormiva strano. Poi ho finito di aiutare mia mamma per preparare il pranzo. Questi sono gli spaghetti di soia, buonissimi, buonissimi. Qua impiattato con ancora un bel po' di soia perché non è mai troppa. E qua stavo riflettendo sulla mia vita. Ho aperto il canale YouTube del Toflate Equestrian, questo è stato l'userò per fare i video del Summer Camp. E poi ho finito di ripassare diritto perché appunto domani ho un esame. E bolla, ancora dormiva. Poi cosa ho fatto? L'ho spazzolata perché ne aveva bisogno, così mi mamma è contenta e lascia un po' meno peli in giro. Brava bolla. Mi sono fatto una doccia con i capelli. E ho fatto ancora delle cose del mercatino, mi sono dimenticata di ripetere la cena e vi darò buonanotte. Ciao!